Allora, diciamo che era un esame facilissimo, facilissimo proprio, però l'Inter l'ha passato a pieni voti, l'ha passato a pieni voti con pieno di seconde linee, un Taremi in formato assistman, ha fatto l'assist per Lautaro qualcosa di meraviglioso, l'assist per Arnautovic qualcosa di meraviglioso e possiamo dire che Taremi quando serve c'è Arnautovic, Arnautovic ha fatto gol, sì, quel gol lo facevo pure io, però mamma mia quanti gol sbaglia, mamma mia, ricordo ancora l'Inter al Tredico Madrid e alla fine segnò, ma pure lì sbagliò sette gol forse prima. Comunque ragazzi, vedete, poi si trascende, si è vinto, si è vinto una bella partita, si è vinto una partita importante, proprio perché era facilissima, era pericolosa, era pericolosa soprattutto perché magari i calciatori la prendevano sotto gamba e invece la sblocca Cialanoglu con un eurogoal che lo metto anche in copertina perché se la merita e poi ci pensa Taremi, ci pensa Taremi, davvero è un calciatore intelligente, intelligente, molto intelligente Taremi perché anche sugli assist che ha fatto un altro avrebbe tirato in porta, invece lui con molta lucidità ha visto i compagni che si smarcavano e ha servito un pallone proprio da mettere in porta, detto tieni, segna, quindi su Taremi si può contare. Su Arnautovic se aggiustasse poco poco quella mira e diventasse un po' più furbo, Arnautovic avrebbe tanti gol nelle gambe, però ne sbaglia troppi, ne sbaglia troppi. Comunque l'importante era fare i gol perché in questa Champions bisogna fare i gol, il Barcellona li ha fatti, il Manchester City li ha fatti, il Borussia Dortmund li ha fatti, li doveva fare anche l'Inter perché i gol sono importantissimi in questa competizione e alla fine i gol tirano tanto nella classifica, quindi una grande Inter implacabile, questo è l'aggettivo giusto, implacabile, lo mettono anche nel titolo, bravi.